Tra le numerose pubblicazioni che Erminia ha prodotto all'interno di questo suo filone di ricerca sulla letteratura di argomento religioso, vorrei ricordarne due. La prima è un libro che si intitola Il barocco e il sacro, la predicazione del teatino Paolo Aresi tra letteratura, immagini e scienza, uscito nel 2001 per la libreria editrice vaticana e poi Donne interpreti della Bibbia nell'Italia della prima età moderna, questo è molto recente del 2020 pubblicato per Brepols. Erminia io ti ringrazio molto ancora una volta per essere qui e ti cedo subito la parola. Allora sono io che ringrazio te per questo stimolante seminario e per avermi dato l'occasione di fare il punto un po' su idee sparse che avevo più o meno elaborato nel corso degli anni e quindi di aver accettato questo soggetto sull'infanzia dei santi nelle autobiografie. Io parlerò da letterata, cioè letterata parlo a dei semiologi e però la mia prospettiva è decisamente letteraria, spero che vi sia di qualche utilità in qualche modo. allora inizio con una riflessione generale su cos'è l'infanzia nella letteratura perché credo che sia ben noto come l'infanzia stenti a trovare uno spazio nella storia letteraria, bisogna attendere il Settecento perché le sia prestato una qualche attenzione e fu proprio la nascita dell'autobiografia moderna a determinare l'ingresso del bambino nella letteratura. Fortemente codificata nei generi che determinavano soggetti, stili, personaggi, la scrittura letteraria del passato non dedica che cenne all'età infantile, almeno fino al Settecento, fino alla novità del romanticismo. A volte anche cenne interessanti come si vede nel poema di Dante, a volte toccanti come nella calzone al metauro di Torquato Tasso, a volte sprezzanti come nell'Orlandino di Folengo, a volte desolanti come in alcune novelli e mi limito solo a letteratura italiana che conosco meglio ma credo che il discorso sia valido un po' per tutto il mondo occidentale. Anche l'ingresso dell'infanzia nell'autobiografia tessettecentesca viene in funzione dell'adulto ma almeno le viene dato un certo spazio e si riconosce che questo è il binario su cui poi correrà la vita futura. Alfieri ad esempio che pure taccia negativamente l'infanzia come una stupida vegetazione infantile, e queste sono le sue parole, riconosce che tutti siamo pur sempre a ben prendere bambini perpetui e nei giovanissimi petti, sono sempre sue parole, chi ben li studiasse si vengono a scorgere manifestamente i semi diversi delle virtù e dei vizi. E ancora l'uomo è una continuazione del bambino. L'ottocento e poi più ancora il novecento risarciranno poi il bambino di questa disattenzione assegnando all'infanzia un posto importante nella narrativa, basti pensare al Carlino delle confessioni di un italiano o ai tanti bambini ragazzi delle novelle riste o delle fiabi che l'ottocento tramanda. Ma persino nella poesia basterà menzionare Pascoli, ma poi seguito da Saba, Bertolucci, Giudici, insomma il nuovo millennio non è da meno, bastano due nomi, Sandro Veronesi con Caos Calmo e Vivi Allamaco con la sua poesia che riprende pure nello stile il linguaggio infantile. Attestano così che l'infanzia è passata dalla periferia al centro della letteratura, se non proprio al centro, ma insomma comunque è un oggetto importante. In questo desolato paesaggio senza infanzie l'autobiografia spirituale non fa eccezione. Non hanno infanzia né Angela da Foligno né il pellegrino che è Ignazio da Loyola, che pure ricostruiscono il loro cammino, la loro conversione in scritti autobiografici. Non ha quasi infanzia Teresa Davila, solo il ricordo delle letture delle vite dei santi che i genitori facevano a lei e ai fratelli il desiderio di andare in missione e morire per Gesù. Roberto Bellarmino ricorda solo l'educazione alla preghiera, confessione, pratiche pie, oltre all'amore per la poesia di Virgilio, ma in poche righe insomma, non è che si dilunghi. Questa esclusione stupisce ancora più meraviglia se si pensa all'attenzione e al significato che ha l'infanzia nel messaggio cristiano. Non solo Gesù è ritratto bambino nei Vangeli apocrifi dell'infanzia, ma la sua nascita ha spazio anche in due dei Vangeli sinottici. Inoltre e soprattutto, credo che sia la cosa poi più importante, il fanciullo ha le sue innocenze date nelle parole di Gesù assoluta preminenza per il conseguimento del Regno dei Cieli. Anzi il messaggio è un preciso monito a di venire come fanciulli per avere la salvezza e non porto esempi, le porterò poi se sarà il caso di pubblicare, ma sono numerose frasi in cui appunto è situazione in cui il bambino è preso, il fanciullo è preso a modello. Dunque l'infanzia è un posto di rilievo, avrebbe un posto di rilievo nella spiritualità cristiana, ma neppure questo ha determinato un significativo cambiamento di indirizzo nella scrittura letteraria occidentale, che resta fedele ai suoi codici determinati in età antica, rinnovandosi solo con l'avvicinarsi della rivoluzione romantica, che caratterizza originalità e individualità. Tuttavia è proprio una scrittura autobiografica, come ben noto quella di Sant'Agostino, che apre uno spiraglio, dando molta attenzione all'età infantile, un'attenzione volta non tanto a trattare dell'infanzia, quanto piuttosto a vedere le radici dell'adulto e le sue modalità di rapportarsi con Dio, consentendo quindi al bambino di essere protagonista di quel discorso rivolto a Dio, che sono le confessioni. E ancora sarà all'inizio dell'età moderna che una santa, Veronica Giuliani, darà spazio alla propria infanzia, per riconoscervi l'inizio di una passione per la passione di Cristo, che la porterà a delle scelte radicali. In seguito, sull'onda della sensibilità romantica, è più facile trovare anche nelle autobiografie dei santi attenzione a quel momento della vita così poco consapevole, ma così carico di presaggi anche per il Regno dei Cieli. Addirittura prenderà forma anche letteraria con Teresa di Lisieux, l'essere improntato alle caratteristiche dei primi anni di vita con quella che è detta l'infanzia spirituale. Infine, nel nuovo millennio abbiamo anche la canonizzazione di santi bambini, Giacinta e Francesco, i visionari di Fatima, con un deciso riconoscimento dell'età infantile come possibilità della santità. Non sono questi autori di autobiografie, ma la loro canonizzazione testimonia un'attenzione e una considerazione all'infanzia significativa, anche se poi non è del tutto nuovo nell'Occidente cristiano portare agli altari santi bambini, che si registrano soprattutto fra i martiri antichi. Ma veniamo all'infanzia del santo che ha inaugurato in qualche modo l'autobiografia spirituale con le sue confessioni, che sono una vera e propria autobiografia, che non sono una vera e propria autobiografia, ma un discorso, una confessione di fede che è anche qualcosa di penitenziale, sebbene non sia sacramentale. L'Io parla, rivolgendosi a Dio per conoscerlo, sulla base della conoscenza di sé. A lui confessa le proprie colpe, che rileva ricostruendo la propria vita, ma lo loda anche per i beni ricevuti. Quella di Agostino, appunto, non è una narrazione focalizzata sugli eventi, ma riguarda tutta la sua vita e indubbiamente rispetta almeno letterariamente quel patto di verità indicato dalla critica come fondamentale nelle scritture autobiografiche, proprio perché si rivolge a un interlocutore che tutto conosce e a cui nulla sfugge. Inoltre il santo, già indubbiamente, assegna grande spazio all'interiorità, ricostruendo la sua soggettività più ancora che la sua biografia. Agostino dedica diverse pagine del primo libro all'infanzia. Dopo le invocazioni a Dio che lo aprono e che accompagnano tutta la scrittura delle confessioni, si interroga sulle proprie origini, sulle cause stesse della sua esistenza e delinea anche alcune caratteristiche dell'età infantile, ma pur dedicando diverse pagine a questa stagione della vita, non metta a fuoco alcun evento particolare. Le considerazioni riguardano soprattutto tratti generali che delineano l'infanzia, derivate dall'osservazione dei bambini o qualche poco osservazione su di sé, ma come riportato da altri. Sull'infanzia dice davvero poco e al riguardo prevalgono termini negativo, nescio, non memini, non habeo, memoria, non memini, eccetera. Insomma è un ricorrente ritorno di queste diciamo affermazioni, di queste negazioni sul ricordo. Questo affastellarsi di negazioni sono da mettere in relazione con l'importanza di questa facoltà come via per la conoscenza di Dio che viene discussa ampiamente nel decimo libro. La memoria è per Agostino la via che gli consente appunto di accedere al divino che è la felicità dell'esistenza, di cui l'anima ha una pallida idea perché l'ana è la memoria, quindi la memoria conserva proprio una traccia, una qualche traccia ricevuta dai progenitori e che consente di amare Dio, di cercarlo e di desiderare quella felicità che Dio dà, che se non la conoscessimo, queste sono parole, insomma traduzione comunque di Sant'Agostino non ameremmo. Dunque nella memoria sta la possibilità di accedere a Dio la felicità che lui solo garantisce. Ma ritorniamo all'infanzia. L'oblio accusato dallo scrittore a questo proposito è stato ricondotto dalla critica alle definizioni di infanzia che il santo dà in un'altra sua opera, il De Genesi Contra Manicheos, in cui nel delineare e caratterizzare le età della vita attribuisce all'infanzia l'assenza di consapevolezza, quindi di memoria. In quest'opera Agostino ripartisce la vita umana in sette tappe in relazione alle sette giornate della creazione, in cui viene raccontato appunto successivamente la creazione del mondo e il riposo di Dio. La prima tappa, l'infanzia, corrisponde al primo giorno, quello della creazione della luce e figurativamente corrisponde al periodo che va da Adamo a Noè. Dunque, coerentemente con le premesse di una lettura tipologica dell'età della vita rapportata alla Sacra Scrittura, Agostino caratterizza l'età infantile per l'oblio come se nulla si potesse ricordare, anche se a fondamento vi è la fede e la luce che ne deriva, per cui tutto è interpretato secondo questi principi. L'inizio della vita umana è dunque comunque letta alla luce della grazia. Sono le osservazioni su altri bambini che lo portano a dire quello che poteva essere la sua infanzia, più che l'esperienza diretta, gli consente di esternare qualche sensazione e delineare qualche condizione di quell'età, che molto spesso lui poi riferisce con, relazionandosi con dei libri biblici o i salmi o l'ecclesiaste o i profeti, attribuendo alla benevolenza divina proprio le consolazioni che poteva avere a quell'età. Ovviamente la consapevolezza di queste consolazioni è tardiva e leggiamo insomma, allora sapevo soltanto succhiare e bearmi delle gioie o piangere delle noie della mia carne, null'altro. Meglio della finita è la sensazione dell'incommunicabilità della condizione infantile, come risulta anche dalla sua etimologia. Agostino sottolinea l'incapacità di comunicare il proprio animo riflettendo sulla convenzione dei segni del linguaggio che solo può esprimere l'animo ai desideri dell'individuo. La scarna ricostruzione dell'infanzia appoggia, data l'assenza di ricordi, sulle osservazioni quindi delle infanze altrui e semmai su quanto altri possono aver riferito a lui della sua infanzia. Lo confessa presto dopo essersi interrogato sulle origini della vita, su cosa era prima della nascita e sulle stesse ragioni della nascita, al di là di quelle che insomma che è derivato da un padre e da una madre. In questo capitolo, come in tutta l'opera, lo spazio principale è preso appunto dal dialogo con il trascendente, con il Dio rivelato, dialogo cui contribuiscono molte citazioni dalle sacre scritture che lo rivelano e permettono di approcciarsi alla conoscenza dell'inconoscibile. Dunque nel paragrafo successivo Agostino ribadisce che pur non ricordando può ricostruire il proprio passato sulla base del comportamento altrui e su quanto riportato. Così può asserire di avere sul finire dell'infanzia iniziato a cercare qualche segno con cui manifestare agli altri i propri sentimenti, il linguaggio. L'ultima considerazione sull'infanzia riguarda il peccato che ovviamente non ricorda ma ne ha consapevolezza di riflesso osservando gli altri bambini. Per la puerizia, nel De Genesi contra Manicheos, si trova la corrispondenza con il secondo giorno, quello della creazione e del firmamento e figurativamente il periodo che va da Adamo ad Abramo. Per la puerizia i fatti e le condizioni dell'io non si sono dissolti nella nebbia dell'oblio ma possono essere chiamate alla memoria. Subito si segnala questa presenza del ricordo così come si sottolinea anche la conquista del linguaggio. Io non ero più un infante, si legge, senza favella ma ormai un fanciullo lo cuace, ben lo ricordo. Del modo come appresi a parlare mi resi conto solo più tardi, cioè insomma i verbi vengono dal ricordo, vengono posti al negativo. La memoria diventa ora protagonista, infatti l'autore sottolinea che era la memoria consentirgli l'acquisizione del linguaggio perché nel ricordo di come gli adulti chiamavano le cose, lui può poi chiamare le stesse cose con quel nome. L'apprendimento del linguaggio significa però anche l'ingresso nella società degli adulti con i suoi obblighi e le sue sudditanze. Due sono gli altri filoni su cui costruisce il capitolo della puirizza, la scuola e l'iniziazione alla fede. Essi corrono paralleli, gli obblighi scolastici sono vissuti con ostilità ma è lì che apprende a pregare perché trova nei maestri dei modelli. Premesso che egli da fanciullo amava le favolette di Omero e che si commuoveva sulle vicende di Enè e di Done, si interroga poi sull'opportunità di questi insegnamenti, su quanto l'esempio dei viziosi inculcasse nei ragazzi i modelli di vita errati. A queste considerazioni dedica notevole spazio, siamo i capitoletti dal 20 al 28, quindi tanti, perché in essi trova la radice dei cattivi comportamenti anche suoi. E poi distinguono, non si devono accusare le parole, la poesia, la retorica, ma quei contenuti che fornivano il vino del peccato, propinato da maestri, sono sue parole, ebri che dovevamo sorbire appena le busse. Attraverso questo percorso accidentato gli approda ad un'adolescenza tormentata, ma anche alla consapevolezza di essere così per volere divino, di aver ricevuto in abbondanza doni divino non avuti da se stesso, ma appunto ricevuto gratuitamente. Ammissione che gli consente di chiudere il capitolo con un'esultanza di lode. Non solo nella poerizia sorge la consapevolezza di Dio, la preghiera, la cenno ai sacramenti, ma matura anche quella dialettica che, artefici di una violenta cesura tra un'esistenza mondana e un'esistenza spirituale, agita l'elemento drammatico e centrale della conversione e dell'adamo rinnovato. Queste sono le parole che usa Battistini a proposito delle confessioni di Agostino. Le confessioni di Agostino dunque sono, anche per l'infanzia e la poerizia, il percorso per la conquista della propria più autentica vocazione, che è la conoscenza di sé e di Dio, una prospettiva da cui giudicare il mondo e la sua vita. Nonostante la grande influenza esercitata dalle confessioni agostiniane sulla letteratura seguente dell'Alto e del Basso Medioevo, in specie sulle rare scritture dell'Io che si trovano, bisogna attendere secoli prima di avere ancora una così ricca presenza dell'infanzia nelle scritture autobiografiche di Santi e non. E poi, Sabrina, se hai qualche correzione da farmi, non esitare, però io non ho trovato quasi nulla. Se infatti la mia conoscenza non mi inganna, bisogna raggiungere il XVII secolo con le autobiografie delle mistiche per trovare un così ampio spazio per i primi di anni di vita. Non pongono attenzione all'infanzia né Petrarca nella lettera ai posteri, focalizzata a un ritratto morale, né benvenuto nella sua vita, tutta intenta alle prodezze artistiche belliche, qualche cenno viene fatto da Gerolamo Cardano per essere stato iniziato la professione medica accompagnando il padre nei suoi consulti. Sarà però la stagione delle scritture autobiografiche e delle mistiche che registrerà, diciamo, a suggerire qualche attenzione agli albori della vita come segno di anticipazione delle scelte a venire. E' questo per l'Italia almeno il settore più ricco di contributi femminili della nostra storia letterale. Lettere, diari, confessioni, deposizioni avanti i tribunali, testimoniano di esperienze vissute a volte drammaticamente nella dimensione dello spirito. Non sono indirezzate a capire ma a narrare gli eventi interiori, gli incontri e le manifestazioni del trascendente. A volte queste scritture hanno stese per obbedienza, sia perché altri potessero godere della conoscenza mistica leggendo di questi doni straordinari, sia perché si potesse controllare l'ortodossia della visionaria. Caterina Paluzzi, ad esempio, fa risalire alla sua infanzia il desiderio di monacarsi. La sua autobiografia è stesa in una forma assai provvisoria. Di modeste condizioni imparò a leggere solo quando a 13 anni volevo conoscere gli scritti di Santa Caterina da Siena, ma restò sempre incapace di dominare la scrittura, tanto che Federico Borromeo, che molto la considerava per la sua spiritualità, non nascondeva questi suoi limiti. Le sue notizie illuminano sulle condizioni individuali, sociali e religiose della maggioranza della popolazione all'epoca, ma non si dilungano molto sull'infanzia. È appunto Orsola Giuliani, Santa Veronica Giuliani, che ci dà la narrazione più ricca dell'infanzia nella prima età moderna. Per i fenomeni straordinari di cui fu protagonista venne ripetutamente denunciata a Sant'Uffizio, esaminata e costretta a renderne conto per scritto. Grafoma ne controvoglia, la definisce Giovanni Pozzi, e non sbaglia insomma. Scrive 22.000 pagine che vengono chiamati diario, ma l'autrice non dà alcun titolo né alcuna forma letteraria. La prima narrazione autobiografica venne composta nel 1693, a 33 anni, su indicazione del confessore padre Girolamo Bastianelli, che rivelò nel processo che l'obbligò, con merito della santa obbedienza, a raccontare distintamente tutto il corso della sua vita e singolarmente della sua poverizia e gioventù, per meglio poter discernere e distinguere il suo spirito e interno dell'anima, condurla a dovere, perché lei stessa nelle confessioni parlava di bagatelle puerile che pensava fossero peccato. Non so, io ho fatto, Sabrina, ho fatto un po' una specie di cronistoria di queste sue scritture autobiografiche, però se ne vuoi parlare tu io salto. No, no, tranquilla, perché tanto io ne faccio un pezzettino. Ah, tranquilla. Sì, va bene, comunque non mi dilungo troppo. E poi parlo solo dell'infanzia, quindi non penso di, diciamo, di toglierti materia. Allora, sì, quindi per verificare queste bagatelle puerili che lei riteneva, pensava fossero peccato, insomma, lei invita a scrivere, la obbliga a scrivere, questa sua scrittura e poi altri faranno similmente. Nella prima ricostruzione, che va dal terzo al sedicesimo anno, lei confessa anche la difficilissima, grandissima fatica che le costa scrivere, ma ricorda abbastanza nei dettagli gli eventi, anche se riferisce solo quelli legati alla sua vocazione. I ricordi sono precisi, talora dice di non ricordare, ma sempre riferendosi a dei particolari, oppure per affermare il negativo. Io non mi ricordo di aver gettato una lacrima, oppure non mi ricordo di essere stata troppo cattiva. Però alla fin fine, insomma, il ricordo c'è. Alla fine, chiudo aggiungendo, ho detto tutto quello che mi sono ricordata. Se altro mi ricorderò, lo manderò di nuovo. Le memorie appanno costruite secondo il flusso dei ricordi, per associazione o per l'emergere casuale, di una memoria. Sono fondamentalmente gli stessi eventi proposti e riproposti in ognuna delle cinque versioni, almeno così mi pare di aver ricostruito, senza significative differenze. Cambia solo l'ordine di esposizione. La seconda relazione è del 1697, ma si tratta di poche pagine relative ad alcuni ricordi di infanzia che vengono scritti in occasione delle confessioni generali. Più consistente la scrittura del 99, ancora per obbedienza del confessore, dove si riprendono molti fatti narrati, ma vengono costruiti intorno al rapporto con le immagini sacre. Ecco, questo è veramente un elemento importante della sua scrittura. La quarta relazione del 1700, ancora per obbedienza, ma non è specificato di chi, è una relazione molto sintetica focalizzata su doni e benefici di Dio che operano in lei, richiedendolo una strenua corrispondenza d'amore. La parte dedicata all'infanzia qui è molto breve, ma vi è un'aggiunta di due ricordi che le si presentano quando è finito di scrivere, ricordi che non comparivano nelle precedenti relazioni. Ma questo periodo risale anche una seconda relazione che fu scritta per ordine del vescovo di città di Castello e che va dai tra i trent'anni. La prima parte ha come titolo dai primi colloqui con le santissime immagini ai primi ardenti desideri di unirsi a Dio come sacramento e sposo crocifisso, confermando l'importanza appunto che hanno avuto le immagini nella sua formazione. La quinta relazione poi è redata tra il 1720 e il 1721, quindi abbastanza avanti negli anni e mi pare la più originale nello stile in quanto è costruita come un discorso della Vergine Maria che sa tutto di lei e quindi lei è ascoltatrice e trascrittrice del discorso della Madonna che la riguarda però. In tutte queste memorie risaltano sia la tensione verso il patire, sia la propensione all'imitazione, ma soprattutto io ho puntato l'attenzione sulla sottolineatura che dà all'influenza delle immagini sacre sulle sue scelte. È ben noto che sulle immagini della chiesa post-tridentina ha riflettuto molto contrastando la propensione all'iconoclastia del cristianesimo protestante, per cui si sviluppò una ricca letteratura sul loro uso. Pure l'omiletica si fondava sul contenuto che le immagini potevano dare, basandosi su un'attenta considerazione della psicologia umana. Negli scritti di Veronica Giuliani si vede bene il modo con cui esse contribuiscono alla sua formazione e alla, insomma, di una coscienza santa a modellare la sua vita e la relazione con il trascendente. È già sui tre o quattro anni che si rileva l'influsso che l'immagine sacra ha su di lei con episodi che mostrano come queste figure fondamentalmente si tratta di Maria, Gesù e raramente San Giuseppe. Queste figure erano per lei viventi, vero persone. A loro non solo si rivolge con parole e gesti di affetto come baci, addirittura si nutre, lei dice, di nutrirsi di questo latte della Vergine e di nutrir Gesù con suo latte. Si impossessa dell'immagine, ad esempio, ritaglia il bambino Gesù, staccandolo con le unghie, dice, insomma, per poi riporselo in seno e tenerlo accanto a sé, anche se invariabilmente la carta poi si stracciava. Quindi ci sono diversi episodi di questo tipo. Le osservazioni di Veronica Giuliani, tra l'altro Veronica, insomma, anche la scelta del nome, vera icona, della sua infanzia, sono caratterizzate comunque da una gioiosa freschezza, trovo, nonostante la sua propensione al patire. Sono memorie improntate alla gioia di una relazione con il divino che evidentemente la riempie di letizia, una letizia che le fa vivere il mondo in intensa e profonda unione con il creatore. Se in Veronica Giuliani l'infanzia ha avuto un peso determinante nel suo percorso di santità e si realizza in lei quell'infanzia spirituale lodata da Gesù nei Vangeli come condizione per il cielo, è con Teresa di Lisieux, e sarà il mio ultimo esempio, che giunge all'apice il ruolo dell'infanzia sia nella vita di un santo sia nella sua autobiografia. Non solo la sua storia di un'anima, è quasi solo la storia dei suoi anni infantili, ma è diventata il riferimento per dar forma appunto a questa teologia dell'infanzia spirituale, che dà piena concretezza all'indicazione evangelica di cui ho fatto cenno all'inizio. La vita di Teresa di Lisieux è ora ben nota, basterà solo dire che fin dall'infanzia fu educata a principi cristiani in una famiglia fortemente religiosa che vide la consacrazione di cinque figlie, tra cui lei, che prese i voti a solo 16 anni, per speciale dispensa con il nome di Teresa del Bambin Gesù e che morì di tisi a 24 anni. Nell'ultimo anno di vita fu invitata dalla superiore, che peraltro allora era la sua sorella, l'amata sorella Paolina, che aveva preso il nome di suor Agnese del Gesù, a scrivere dalla sua infanzia. Invito rinnovatole poi dall'altra sorella Maria Luisa, divenuta suor Maria del Sacro Cuore, anche lei nel Carmelo, e poi di nuovo dalla maestra delle novizie, madre Maria Gonzaga. Per cui le scrive per obbedienza tre scritti autobiografici, tutti e tre sotto forma di lettera, che insieme compongono questa storia di un'anima. Opera che ebbe un successo editoriale notevole, che va al di là dell'interesse religioso e spirituale. Mi occuperò solo del primo scritto, quello più lungo che copre tutta la sua vita, perché gli altri due sono focalizzati sulla vita nel Carmelo, per cui poca parte ha l'infanzia, c'è qualche cenno, ma insomma non è importante. Invece la lunga lettera alla consorella Agnese, sorella Paolina, è per più di metà dedicata ai suoi anni infantili, un centinaio di pagine in cui l'autrice dettaglia bene le vicende che l'hanno formata. E lei stessa che segnala all'avvio del capitolo quinto, in cui racconta già la la sua per orazione presso il vescovo per entrare anzitempo nel Carmelo, che il Natale del suo tredicesimo anno di età segnò la fine di quella stagione della vita. E cito, fu il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia, in una parola la grazia della mia conversione completa. In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, il più bello di tutti, il più colmo di grazia del cielo. Quindi è questo il periodo, diciamo, quello che va avanti, che noi lasciamo fuori. Io mi occupo di quello che c'è prima. La percezione della fine dell'infanzia è dovuta alla presa d'atto che certi riti infantili stavano infastidendo il padre. La delusione è cocentissima, ma viene ribaltata dalla consapevolezza che, insomma, inizia una nuova fase della vita. L'avvio della scrittura indica subito la ripartizione. Infatti Teresa scrive durante la sua malattia, quindi ha già chiaro il suo destino, e divide la sua vita appunto nell'età, nel primo periodo fino alla morte della mamma, come la vera infanzia, poi dalla morte della mamma fino alla convinzione, quel tredicesimo anno in cui si accorge che l'infanzia è finita ed incomincia a impostare la sua vita verso l'ingresso nel Carmelo e poi il resto che noi non trattiamo. In effetti, contrariamente a quello che abbiamo visto per Agostino, il capitolo che racconta dei suoi primi quattro anni di vita, insomma la vera infanzia, è costellata di affermazioni positive sulle possibilità di ricordare che lei coriconduce a un dono celeste. Lo stesso si riscontra ovviamente per il periodo successivo, quel secondo periodo che va dai quattro anni e mezzo fino ai tredici anni, epoca in cui appunto ritrovò il suo carattere di bambino pur entrando nella serietà della vita. Risulta ovviamente impossibile sintetizzare qui insomma il significato di questa infanzia, darò solo qualche indicazione veramente di massima. Anzitutto l'infanzia è caratterizzata felicità, serenità, amore, sentimenti determinati dall'unione che viveva quel nucleo familiare non privo di tragedie ma fondamentalmente molto molto unito. In questo clima sereno e gioioso Teresa, ultima di otto figli, cresce spensierata, coccolata ma non viziata, è guardata come un piccolo folletto, le tragedie, la morte di tre fratellini, passa senza drammi, almeno non ne parla drammaticamente, ma non quella della mamma, la cui perdita segna una svolta definitiva, vissuta appunto come la fine di un periodo. Alla perdita della mamma segue poi l'ammonacazione della sorella Paolina, sua madrina, che aveva per Teresa preso il posto di seconda mamma. Questa è un'altra perdita vissuta drammaticamente. Anche la vita scolastica è segnata dalla sofferenza. Teresa non si adatta al tenore ciarghiero e mondano delle sue compagne, non riesce a condividerne i giochi, eppure andava in una scuola religiosa, comunque è tagliata fuori, esclusa, ma anche fatta oggetto di versazioni continue. Tuttavia la percezione di una superiore cura divina, insomma il ritorno poi al calore familiare, rendono accettabili anche questi momenti. Anche lei rivela un grande amore per le immagini, che non sono solo devozionali, ma formative. Scrive, debbo alle belle immagini che lei, insomma la sorella Paolino Suoragnese, mi mostrava come ricompensa una delle gioie più dolci e delle impressioni più forti che mi abbiano incitato alla pratica delle virtù. Con l'avanzare degli anni, ma parliamo sempre dei 9-10 anni, fino al 13 al massimo, quello in cui si chiude il periodo dell'infanzia, le riflessioni sulla sua vocazione si intensificano dando senso agli eventi ricordati, che per lo più si restringono a ciò che concerne la sua storia spirituale. In quello che è il capitolo di passaggio, ovvero quello che chiude il periodo dell'infanzia, Teresa registra anche alcune considerazioni relative proprio all'indicazione evangelica di essere come fanciulli, mostrando una profonda consapevolezza del significato di questa indicazione. E a proposito di una confessione, in cui riceve il permesso di comunicarsi quattro volte al settimana, che lei riflette sul ruolo dei direttori spirituali, che come specchi fedeli riflettono Gesù nelle anime, ma lei si sente curata direttamente da Dio, come un giardiniere che inonda di cure un fiore o un frutto. La sua non è superbia, è solo consapevolezza di quanto la semplicità infantile costituisca un principio cristiano fondamentale, che è compreso proprio dai semplici perdono divino. Lei stessa, poco prima di entrare nel Carmelo, ha avuto la possibilità di osservare su altri la ricchezza teologica dell'infanzia, osservando il comportamento di due bimbette che, rimaste orfane, erano state prese in casa dalla famiglia, della sua famiglia. Teresa se ne occupava ed osserva con ammirazione il loro candore, concludendo, e qui concludo anch'io, il santo battesimo deve deporre nelle anime un germe molto profondo delle virtù teologali, poiché queste si rivelano fin dall'infanzia. Grazie. Adesso passo subito a presentare Sabrina Stroppa. Ringrazio moltissimo anche lei per essere qui oggi. Sabrina Stroppa è professoressa associata di letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici all'Università di Torino, ma ha anche vinto un concorso come professore ordinario presso l'Università per Stranieri di Siena, giusto? Di Perugia? Di Perugia, scusami. Ecco, direttrice della rivista internazionale Petrarchesca, autrice di studi Sudante, Petrarca, Ariosto, Metastasio, sulla letteratura mistica dal 600 al 900, sulla poesia contemporanea. Ha pubblicato presso in audio un commento al canzoniere di Petrarca e ha curato l'edizione critica di molte opere, tra cui molte opere di letteratura mistica, come ad esempio gli oratori sacri di Metastadio. Ricordo infine una monografia sulla letteratura mistica del 600 italiano pubblicata nel 1998 per Oschchi e poi il bellissimo saggio scritture mistiche e testi sulla mistica nei primi decenni del 900, tra editoria e direzione spirituale, uscito in ricerche di storia sociale e religiosa del 2011. Oggi ci presenta un intervento intitolato Il diario Spirituale e la Dimensione del Tempo nella Crescita Interiore, secoli XVII-XX. Grazie mille Sabrina, ti cedo subito la parola. Grazie. Allora, grazie Jenny, grazie moltissimo del coinvolgimento in questo seminario, di cui purtroppo ho potuto seguire alcune puntate molto belle, non tutte come avrei voluto, ma è un periodo veramente infernale, come per tutti. E mi scuso anche, ti ringrazio anche di aver raccolto immediatamente con grande generosità la mia proposta di rinviare il mio intervento, ma alla fine credo che, pur scusandomi per il contrattempo, credo che sia nato bene così, perché con Erminia, a cui mi lega una lunga amicizia e anche comunanza di intenti, sembra che pur non essendoci parlate, ci passiamo il testimone perfettamente, perché riprendo più o meno esattamente da dove lei ha abbandonato, ponendo questo problema, questo problema. Che cosa vuol dire nella letteratura mistica o spirituale, non sono perfettamente coincidenti, ma spero poi di dire una cosa anche su questo, che cosa vuol dire parlare di sé e come si parla di sé nella letteratura spirituale. Come ha detto giustamente Erminia, nell'epoca moderna esistono almeno due grandi generi in cui le autrici soprattutto, perché sono soprattutto le donne a essere autrici di questo tipo di testi, due grandi generi in cui le autrici versano il parlare di sé, che sono essenzialmente l'autobiografia che in genere ha nome vita e le relazioni e le relazioni ai padri spirituali. A volte una cosa diventa l'altra o si sovrappone, insomma. Eh fra queste due tipologie c'è il diario spirituale. Io ho intitolato il diario spirituale il mio intervento, ma non parlerò solo del diario spirituale, ma poi capirete perché, ma il diario è strettamente legato alla dimensione della temporalità. E l'altra questione che vi pongo, allora la prima è che cosa vuol dire parlare di sé in un genere e quanto questo genere comporti una differenza nel parlare di sé, l'altra questione è la temporalità. La temporalità che non è soltanto, è da una parte, come diceva Erminia, la temporalità della scrittura. Noi sappiamo queste condizioni terribili in cui scriveva Veronica Giuliani, le davano materialmente dei quaderni che lei riempiva, una volta riempiti, le venivano sottratti e quindi c'è questo, il fatto importantissimo di non poter rileggere, di non avere davanti il libro dell'autobiografia che configura strettamente questi diari come diari, nel senso che non solo sono scritti au jour le jour, ma sono anche scritti nell'impossibilità di avere sotto gli occhi il già detto. E quindi ogni giorno propone una nuova temporalità come se fosse una temporalità perennamente rinnovata. I generi si sovrappongono ma si impongono anche nel racconto di sé per ritornare all'infanzia. Poi farò il caso di Camilla Battista Varano per la quale siamo alla fine del Quattrocento e c'è un capitolo dedicato all'infanzia, quindi si può retrocedere un pochino rispetto ai tempi indicati da Erminia. Ma semplicemente attingendo a te che non ho messo nelle slide ma che vi espongo adesso, saltiamo al Novecento con Gemma Galgani e Gemma per qualche mese del millenovecento le viene richiesto di stendere un diario spirituale e questo diario inizia con una temporalità precisa. Diciannove luglio stasera finalmente dopo sei giorni di patire per la lontananza di Gesù mi sono un po' raccolta, mi sono messa a pregare come sono solita ogni giovedì eccetera. C'è proprio la registrazione di che cosa vuol dire percorre, intraprendere un percorso spirituale nella temporalità quotidiana. Quando il confessore ehm padre Germano eh Stanislao che è il secondo confessore oltre Germano oltre al padre Volpi a Giovanni Volpi le chiede di scrivere un dia una vita un'autobiografia lei ricorda inizia dai primi ricordi eh dopo la prima pagina che tipicamente in tutte le autobiografie scritte per obbedienza riguarda espone l'obbedienza cioè in tutte le autobiografie dal Cinquecento in poi quando l'autobiografia e la vita è scritta per obbedienza la prima le prime righe dicono scrivo per obbedienza. La seconda pagina si intitola primi ricordi la mamma. Per la prima cosa mi ricordo che la mamma mia quando ero piccina sotto i sette anni era solita spesso prendermi in braccio e più volte mi ripeteva ho pregato tanto affinché Gesù mi desse una bimba, mi ha consolata, io sono morì, sono malata, ti dovrò lasciare. Sapete che anche Veronica Giuliani per esempio aveva ricevuto in dono una delle piaghe del del corpo di Cristo come testamento, come lascio testamentario della madre. E e vabbè tra parentesi ci si può chiedere che cos'altro potesse diventare se non cappuccina una cui la madre ha lasciato per testamento la piaga del costato. E poi la madre muore e lei si accosta alle monache quindi l'infanzia quando quando l'autobiografia è richiesta come racconto della vita spirituale regolarmente l'infanzia appare come il momento in cui questi doni si rivelano e in cui generalmente c'è l'attribuzione di una responsabilità verso qualcuno, verso un predicatore o verso un padre spirituale o verso la madre, cioè chi ha iniziato il bambino dalla vita spirituale. Molto indicativo che Gemma parli qui di primi ricordi e poi volevo fare solo un altro esempio che è la nostra sua Maria del Beato Amedeo, santa dei Savoia, torinesissima, che quando le viene richiesto di stendere appunto le sue memorie, anche lei dice il mio superiore me lo ordina, quasi nessuna scrive volontariamente. Il primo capitolo riguarda la famiglia dei genitori, quindi timorati di Dio e persone da bene eccetera e poi l'infanzia appunto giunta all'età di cinque anni, già sapevo leggere correntemente, di solito mia madre mi faceva leggere un certo libro molto vecchio dei santi padri, poteva essere uno dei florileggi delle vite patrume che correvano già dal cinquecento in poi, dove erano diverse storie dei santi e sante penitenti, nel leggere queste e altre simili storie piangevo a dirotto, in modo che interrogandomi per tale piante e sospiri dicevo eccetera eccetera, cioè le letture infantili non sono quasi mai eh osservate per come mera registrazione, sono sempre, come nel caso eponimo di Santa Teresa, l'occasione per rammaricarsi di aver percorso delle letture profane, oppure come in questo caso il ricordo della lettura che ha profondamente inciso nella creazione di una percezione del peccato, quindi è in genere si risale, ritorno a Gemma Galgani, ai primi ricordi. Questa faccenda del primo ricordo è dal punto di vista della della psicanalisi e anche della scrittura del genere è una una cosa importantissima. Ehm io non ho potuto perloquire con uno dei primi relatori, ma eh quando nel settecento i nostri grandi ehm scrivono le loro memorie, perché come ricordava appunto Erminia settecento è il il secolo in cui ehm il genere della autobiografia ehm esplode e si canonizza, eh se noi guardiamo Alfieri eh Casanova e Goldoni il trattamento del primo ricordo dell'infanzia prende tre vie diverse ma tutte importantissime fondamentali. Allora eh Alfieri che vede nel bambino il germe dell'uomo parla del primo ricordo di tutti dicono che fino all'età di sette anni non si può ricordare niente perché è la è la ripartizione nelle cinque età dell'uomo nei primi sette anni di vita che fra l'altro è una ripartizione ancora oggi viva presso gli steneriani no? Allora nei primi sette anni non è ancora innestata la ragione nel bambino, il bambino vive di vita animale non essendone stata la ragione non ci può essere la continuità della del ricordo che è basato perché l'attività di memoria è un'attività intellettuale e quindi non ci può essere continuità di narrazione perché non c'è la continuità di percezione razionale degli eventi. Allora Alfieri infatti parla del primo ricordo quello di quattro anni dello zio che lo mette sul cassettone gli dà delle caramette e lui si ricorda la fibbia dei suoi stivali che è proprio un primo ricordo alla Proust è una sensazione no? È un ricordo slegato dalla continuità dell'autobiografia una percezione che colloca che diciamo che ammanta di un alone di di memoria rapsodica l'infanzia ma resta isolato come primo ricordo. Casanova dice proprio patentemente che prima dei sette anni la vita è animale quindi non ci può essere eh racconto di sé perché per lui racconto di sé è racconto della vita da seduttore della vita condotta presso le donne e nel nel gioco nel movimento no? E quindi comincia il suo racconto esattamente quando a sette anni ha la famosa prima impressione delle piante che si muovono perché è su un barcone che viaggia per per il fiume per un fiume e lui pensa che siano le che si muovono e poi la madre gli spiega che sono loro che viaggiano questa relatività del movimento è un'impressione fondamentale che lo colpisce profondamente da lì in poi comincia a pensare da lì in poi gli si apre l'uso della ragione quindi da lì in poi comincia a raccontare di sé e Goldoni fa un'altra cosa che è fondamentale per il racconto di sé da bambino dice che cosa gli altri dicevano di lui in quanto bambino no? Mi si racconta che era un bambino molto dolce che è anche una maniera per raccontare di sé siccome noi non abbiamo se non ricordi slegati dell'infanzia allora lui racconta che cosa diceva la sua famiglia di lui e comincia da lì. Questa piccola introduzione mi serve per capire che quando noi leggiamo delle autobiografie spirituali il punto di inizio non è mai neutro perché il punto di inizio una volta detto che si scrive per per comando per obbedienza nel punto di inizio noi vediamo sempre ehm il momento della rivelazione della 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 vita spirituale insomma della della vocazione. La eh temporalità però è una questione anche più complicata che riguarda molto molto da vicino proprio il il la questione di che cosa sia la vita mistica e quindi eh comincio a eh condividere queste slide. Dobbiamo fare un passo indietro un grande passo indietro e eh ritornare a un non sarà molto lunga non ripercorrerò la storia della teologia mistica ehm però ho fatto un'altra allora spero che voi state vedendo le slide siccome io non vedo la più la chat se c'è qualche problema mi aprite il microfono me lo dite grazie. Allora adesso vediamo benissimo non farò la storia vi dicevo della 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 teologia mistica eh se non per dire che un altro dei grandi problemi che c'è il problema di fondo che ehm che vi esporrò oggi è esiste eh per tutto il medioevo soprattutto l'età moderna una teorizzazione della della vita mistica della vita mistica e quindi della vita mistica in saggi che sono per lo più scritti da uomini e parallelamente una sperimentazione della vita mistica che è tipicamente affidata alla scrittura femminile e le due cose però per quanto riguarda la temporalità non sono affatto sovrapponibili e allora ehm allora ehm Ugo di Balma è autore di un trattato eh scritto entro il mila e duecentonovantasette eh Ugo di Balma si sa pochissimo di lui se non che era eh priore di una certosa francese e l'opera la via Sion Sion Lugent che è la l'incipit dell'opera con cui era conosciuto eh nell'epoca antica è stata scritta per molto tempo alle a Bonaventura ed era compresa negli opera omnia di San Bonaventura fino alla fine dell'ottocento quando l'editore di Quaracchi la espulsero eh resta una uno dei fondamenti eh medievali della trattazione della teologia mistica e eh vi faccio solo notare eh molto rapidamente che eh Ugo di Balma rappresenta così la temporalità eh intanto la rappresenta nella progressione delle famose eh tre vie lo vedete nel eh paragrafo sei del prologo eh le tre vie sono quelle di marca dionisiana ma che percorrono tutta la teorizzazione antica della mistica eh principianti proficenti e illuminati o perfetti eh il novus discipulus come vedete eh gradatim per passi eh gradatamente deve ascendere alla perfezione di questa scienza scienza perché la mistica è un sapere eh in primo luogo un sapere per soprattutto per il medioevo alla perfezione noi diremmo al perfezionamento di questo sapere deve ascendere gradatim eh per gli avverbi qui alcuni avverbi alcuni passaggi sono fondamentali non tanto per la pienezza del lessico ma proprio nelle parti laterali tut primo in via purgativa queste via puerilis et incipientium studiosissime se exerciat no? Deve quindi ascendere eh in modo da esercitarsi in primo luogo nella via purgativa che è il primo gradino che però viene definita puerile vedete che vi dicevo che con Erminia ci stiamo passando a testimone è la via infantile eh o di chi inizia poi per Aliquantulum temporis scilice peperurum mensem velperduos eh poi dopo un po' di tempo avendo trascorso un po' di tempo mh Aliquantulum che questo tempo non è moltissimo uno o due mesi uno o due mesi non è tanto divino super irradiante lumine a seconda di quanto quindi il lume divino piove su di me eh ad amore in cogitando con surgate deve andare oltre eh consurgendo elevandosi eh all'amore eh attraverso la riflessione poi con scendita anima ad muto eminenziorem gradum passerà vedete si parla sempre di gradini eh di un'ascensione eh salirà l'anima per un attraverso gradini via via eh montanti eh fino a che sinalico a cogitazione previa immediate in Deo ad ficitur fino a che lui riuscirà a penetrare della via dei perfetti immediatamente in Dio sinale con cogitazione previa senza più avere la necessità di eh di mettersi nella predisposizione di ehm una predisposizione meditativa. Quodad plenum non può testarli qua umana industria ai doceri è cosa che le eh la sapienza umana non può insegnare un percorso che l'anima fa da sé. Mi interessa molto il primo mh brano che vi ho riportato quello sempre del prologo paragrafo cinque eh nel quale Ugo di Balma spiega che la progressione della via mistica è un po' un è un fare terra bruciata dietro di sé. Cioè è come quelli che eh che eh costruiscono i ponti quod prius linea supponuntur ut firmitas muri lapidei super edificetur. Prima mettono delle impalcature linee per in in maniera che poi si possa costruire la struttura di pietra. Edificazione completa iam supposita linea penitus ammoventur. Una volta che il ponte è costruito le l'impalcature linee vengono rimosse. Sic et mens. E così agisce la mente. Cum primo in amore sit imperfecta prius ad amoris perfezione meditanto consurgite e cum per multum esercizio in amore unitivo furit confermata. Sublevette, sublevata, eccetera eccetera. Sine omnicogitazione previa velgum comitante qualsiascunque placet in deo officitur. Allora così è la mente. Prima si deve esercitare. Prima si deve costruire uno spazio interiore come se avesse le impalcature di legno che lo sorreggono. Quindi con l'esercizio, le preghiere, le meditazione, no? Finché risulta confirmata, finché questa attitudine risulta solida, no? E confermata. Dopo queste impalcature non servono più perché l'anima si è pietrificata, si è consolidata nella sua attitudine. Quindi tutte queste impalcature vengono a cadere e l'anima si erge come un ponte di pietra o una torre. Noi penseremmo di più alla torre di Babele, se volete, o comunque a un edificio alto che viene a costruirsi e le impalcature non servono più. Non so se avete mai visto in Oriente quando costruiscono interi grattacieli con le impalcature di bambù andando avanti, innalzandole proprio piano dopo piano. Allora, questo trattato ci dà due strutture di fondo fondamentali. La tripartizione e la gradualità quindi della vita mistica e poi la non in necessità, la superfluità dell'impalcatura una volta che si è raggiunto uno stato di consolidamento. A metà del 600, anche il secolo da cui appunto Arminia prima diceva essere partita sostanzialmente la considerazione moderna, la redazione moderna della vita dell'autobiografia mistica, Giovanni Bona di Mondovì, un altro piemontese, scrive un'opera che è importante perché è una summa della teologia mistica. A metà del 600, dicevo Bona, nel grande secolo, il grande secolo della mistica, il secolo d'oro per la mistica europea, a livello europeo, non soltanto italiano. Infatti, i trattati sono scritti quasi tutti in latino perché è la grande lingua della comunicazione, senza un dominio, una lettura, la possibilità di leggere il latino, è impossibile occuparsi di mistica fino all'epoca moderna. Bona quindi riassume la grande letteratura mistica dal Medioevo fino proprio a trattati scritti due anni prima del suo e però costituisce, va a creare una bipartizione e non tripartizione in cui non c'è tanto al cuore del problema, non c'è tanto la gradualità della salita a Dio, ma l'alterità, l'alternanza. Duplex est via per qua mitur ad deum. E questa è una concezione fondamentale per capire che cos'è la mistica in epoca moderna. Unam vocant scolastica met comune ma alteram mistica met secretam. Una è la via scolastica e comune, l'altra mistica e segreta. Poi all'interno della via mistica si possono fare tante scale, ma lui c'è un capitolo in cui lui ne espone tantissime. Quante e quali sono le scale che si possono scavare o delineare all'interno della via mistica? Ma il principio fondamentale è che la via spirituale o mistica, anzi la via mistica perché tutti e due sono vie spirituali. La via mistica brucia le tappe, ha una temporalità completamente sua, aliena da quella umana che è scolastica e comune che può essere insegnata. La mistica non può essere insegnata, è segreta. Tutte e due sono doni celesti ma c'è un grande discrimine e da qui poi come vedete tutto il paragrafo è costruito su questa alternanza fra illa e ist e ec. Quella è questa. Quella chiede uno studio umano et inquisitionem, inquisizio vuol dire una grande applicazione di intelletto. Questa è paradossalmente siccome è comune, è comune ma siccome chiede una grande applicazione di intelletto la via scolastica è riservata a pochi. Paradossalmente la via mistica è riservata ai molti invece, è aperta a molti perché ubico è sempre et ad omnibus veripotest, perché la via mistica non richiedendo studio, applicazione intellettuale è aperta a tutti. Quella è speculativa, questa è pratica. Quella è sita dell'intelletto, questa è che in volontà è sita est, coinvolge un'altra facoltà interiore che è la volontà. Eccetera eccetera. Quella viene dalla scienza acquisita, questa dai doni dello Spirito Santo, quella illa, longa, laboriosa et difficilis. Sono al secondo paragrafo a destra. Ec questa mistica è brevis, expedita et facillima. Questo è il punto fondamentale. La via scolastica che procede attraverso l'applicazione e l'affinamento della meditazione e i passaggi graduati da un punto all'altro è lunga, laboriosa e difficile. La via mistica invece come dicevo brucia le trappe, è breve, expedita, viaggia leggera ed è facilissima, facilissima. La prima, ab infimis incipiens, comincia dalle parti iniziali, cercando di togliere dall'anima i peccati, di purificarla e di innalzarla. Invece questa, e quindi segue una via che è una via retta oppure spiraliforme, invece il percorso della via mistica è un circolo. Ecco, admirabili circolo, ab amore incipiens ad amore in progreditur. Comincia dall'amore e finisce nell'amore. Allora, come vedete, la mistica si distingue e si contraddistingue per una temporalità sua. Noi però possiamo verificare nelle autobiografie che queste due temporalità convivono continuamente. Quindi il problema che mi pongo è giustamente di porvi, di chiedermi come convivono. Non ho risposte, non ho risposte. Oggi io vi pongo il problema e non nemmeno ho messo troppi esempi. Ci sono quattro o cinque esempi in tutto. Non voglio farla tanto lunga. Perché ci sono dei marcatori verbali e temporali da osservare nelle autobiografie che normalmente, per i quali non c'è molta attenzione. Adesso, per esempio, la prima autrice di cui parlo è Camilla Battista Varano. È uscito un volume di cui vedete lì la copertina su di lei. Molto bello, Santo Battista Varano e i suoi scritti, in cui c'è molto classicamente, perché ormai gli scritti collettivi sulle mistiche sono fatti in genere così. Per esempio, Aspetti grafici sono morfologici sintattici del volgare di Battista Varano, perché tutte queste autrici sono mediamente ascritte al registro delle semicolte e quindi lo studio della loro scrittura, dal punto di vista linguistico, è una cosa molto importante. Poi, gli scritti della Beata Battista nel manoscritto 66 della Biblioteca Provinciale dell'Aquila, perché ci sono poi anche i collettori, autografi o manoscritti che tramandano gli scritti di queste autrici e che sono sempre importanti per la storia della cultura. Battista e il suo tempo, tra Giulio Cesar Varano e Papa Alessandro VI, quindi contestualizzazione storica. Sto leggendo alcuni capitoli di questo libro, che è molto importante anche per stabilire un protocollo di analisi e di studio delle autrici della prima modernità. Lo status questionis è circa gli scritti di Battista da Varano e poi c'è sempre aspetti dell'esperienza spirituale di Camilla Battista Varano, cioè gli aspetti dell'esperienza spirituale, che sono i capitoli sui quali io sono sempre più perplessa e polemica, perché qual è il problema? Che si tende da sempre a ricostruire la spiritualità, mettendo insieme tutti gli scritti in genere con poca attenzione ai generi e con pochissima attenzione alla temporalità. Allora, io ho tratto questi passaggi dal nostro testo di riferimento scrittrici mistiche italiane, fino per un paio di autrici, l'ho tratto da qui in maniera che da dare semplicemente o anche una chiave di lettura con la quale si può attraversare il volume delle scrittrici mistiche italiane. Lo dico come cosa ovvia Pozzi e Leonardi, che rimane uno dei più grandi collettori di scritti, soprattutto autobiografici e spirituali in genere, delle mistiche italiane dal Medioevo al Novecento. Camilla Battista Varano, come dicevo, comincia dal racconto della sua infanzia e come vedete siamo negli anni Sessanta e Quattrocento a Camerino. Anche qui, per esempio, uno delle caratteristiche, ma io non voglio entrare in territori che ha già affrontato Erminia, una delle caratteristiche stabili delle autobiografie di queste donne è l'opposizione paterna alla vita spirituale, alla vita claustrata, soprattutto nei casi in cui, come accade alla Battista Varano, ma anche poi vedremo a Maria Maddalena Martinengo, la scelta della donna cade su vita religiosa di particolare asprezza, come quella delle clarisse o delle cappuccine poi, che erano all'epoca di claustrazione stretta, verso le quali vite, i genitori, soprattutto se di estrazione nobiliare, avevano, nutrivano molte resistenze, nutrivano dubbi e facevano resistenza. Battista Varano parla al suo confessore che è il destinatario anche della sua biografia, della sua autobiografia, francescano Domenico da Leonessa, e dice che l'inizio della sua vita spirituale, tutta la mia vita spirituale ha avuto origine, principio e fondamento da voi e non da altri. Quindi gli dice che da lui viene l'inizio della sua vita spirituale. Racconta di quando io non potevo avere più che otto o dieci anni e ricostruisce l'età di otto o dieci anni sulla base del numero di anni intercorsi dalla sua predicazione fino ad oggi e siccome io oggi ho 33 anni, se togliete quegli anni lì avrete la prova che io avevo quell'età. E racconta di questa predicazione del Venerdì Santo di Francesco da Leonessa e di quanto questa predicazione fosse penetrata nella sua anima. Da quel momento Camilla, perché il nome di battesimo era Camilla, decide che di gettare una lacrima, di buttare al manco una lacrima per amore della passione di Cristo ogni venerdì. Temporalità. È una temporalità continua, ricorrente, per modo di anniversario. Il tempo da quel momento, dal momento in cui la bambina sente di volersi votare a Dio, è scandito da tutto ciò che un bambino di otto o dieci anni può dedicare a Dio. Quando le fanciulle arrivano ai tredici, votano la virginità, ma perché sono già quasi arrivano in età da marito. A questa età il voto sostitutivo può essere un voto ricorrente e quindi vota di gettare almeno una lacrima per la passione di Cristo ogni venerdì. Però questa temporalità circoscritta comincia ad allargarsi e vedete nel primo brano che ci ho trascritto che tante e tale impressioni pigliai per questo continuare di leggere la passione che io non volse più leggere ma pensarla. E non solo il venerdì, ma ogni dì la voleva per buono spazio pensarla, non secondo quella meditazione scritta, ma secondo che Dio si degnava a ispirare in me. Ed era tanto il dono delle devote lacrime che molte volte desiderava di poter dire una corona senza piangere perché immediatamente il dono delle lacrime, è stato ricordato l'altro giorno per Ignazio, il dono delle lacrime sgorga a ogni ricordo della passione. E questo feci per tre anni continuovi prima che mi deliberasse donarmi tutta a Dio. Ecco, qui comincia a entrare in gioco questa temporalità continua. E il problema è questo, i trattati mistici stabiliscono una temporalità anche abbastanza stretta per la progressione spirituale. Avete visto addirittura Ugo di Balma e sono partita da Ugo di Balma perché è un trattato che tutti gli autori moderni conoscono e praticano e citano. Parla di uno o due mesi. Questi uno o due mesi che stanno fra un gradino e l'altro, di questi uno o due mesi, che ne è poi nelle autobiografie? Semplicemente una progressione così stretta è impossibile da praticare nella pratica materiale di vita e quindi i marcatori temporali e il racconto delle progressioni diventano nelle autobiografie infinitamente più complicati, più labirintici e a volte ritornanti. Uno dei caratteri, per esempio, che colpisce di più è il punto in cui a norma di manuale di mistica la donna che racconta la propria vita espone un punto di svolta, come quello che vi ho messo a destra su sfondo viola. Essendo per tale deliberazione fatta la divina volontà unita, quindi lei è passata attraverso tutti i gradini e è arrivata all'unione. Nei manuali di mistica, quando si arriva alla vita unitiva, si è arrivati alla vita unitiva, si è al culmine dell'esistenza. Per tale deliberazione fatta la divina volontà unita, in pochi dì furono aperte tutte le catarate del cielo, il diluvio dell'abissale misericordia, le sue antiche sorbette tutta la peccatrice anima mia e poi guardate questa interazione. Allora il benigno padre Dio si fece incontro a figliolo prodigo, allora dolcemente nelle paterne braccia, la tipica triplice iterazione, allora il dolce bacio della sua santa pace. Però anche se è arrivata il momento dell'unione e Dio si avvicina all'anima, quello che poi la donna, l'autrice in questo caso sperimenta, è l'impossibilità di mantenere questo stato a lungo. O corre di pietra, perché non crepi, che fai, perché più induzzi. Il problema è che l'unione mistica è un attimo, un momento temporalmente molto compresso che poi non può essere mantenuto nella continuità della vita. Un altro marcatore verbale molto ricorrente è rimasi, di questa frase che vi ho scritto, rimasi poi tutta pacifica, tutta quieta, tutta tranquilla, riposata e contenta, cioè queste punte di unione hanno una ricaduta nell'anima, rimasi in qualche maniera. Tutte le autrici citano questo tipo di risultanza. Veronica Giuliani, Erminia ci ha già parlato delle varie fasi del diario, giustamente sono lieta perché così non devo ritornarci. Torniamo semplicemente alla modalità di scrittura. La modalità di scrittura di Erronica è veramente un diario perché la capucina non ha... Capucina è clausura stretta, vita terribile, delle celle di rigore erano le stanze delle capucine, anche se poi lei curava l'orto, faceva dispensiera, quindi non era, immaginate un padre del deserto, però la vita era veramente di rigore stretto. L'impossibilità di scrivere, come vedremo fra poco, Maria Maddalena Martinengo, un vero e proprio libro della vita, fa sì che la temporalità di Veronica Giuliani sia costantemente focalizzata su un punto. È come se davanti ai suoi occhi lei avesse costantemente un imbuto che le permette semplicemente di vedere il momento presente o di raccontare quello che è accaduto la notte precedente o il mattino. Quella mattina, in quella gara fra cuore e cuore, fin questa conformità. Tre, detto, detto, dire lo stesso mese. Questa notte, avanti il mattutino, ho travagliato sempre in particolare quest'ora, quell'ora. Dopo il mattutino, nel mettermi all'orazione, ebbi qualche poco di applicazione, in un subito mi venne il raccoglimento nel quale vi fu anche la visione e fu in questa conformità. Parevami di essere un luogo spazioso, e qui parla il racconto della visione. Qual è la temporalità di questa esperienza spirituale? Non c'è mai progressione. Le migliaia di pagine di Veronica sono disperanti perché la sua percezione della sua vita spirituale è sempre focalizzata sullo specchio limitato della scrittura quotidiana. e quindi la sua esperienza è come se fosse continuamente verso l'esperienza unitiva. Guardate anche il primo brano, no? Fu in questa conformità. Il signore nella ferita del suo costato facevami vedere il suo cuore ferito e tutto fiammeggiante d'amore. L'istesso amore invitava questo cuore suo ferito. Nel medemo tempo io vedevo questo cuore di dentro, il medemo cuore di Gesù, il quale come uno specchio stavami avanti e facevami vedere tutto quello che esso operava in questo cuore quindi anche una capacità analitica assoluta perché non c'è non c'è propriamente una memoria a lungo termine che viene adibita ma una memoria a brevissimo termine cioè la visione e tutti i particolari di fratti della visione queste visioni però non si pongono mai in forma di scala in forma di progressione sono sempre relative a una vita spirituale che vive di singoli momenti ma questi singoli momenti sono tali perché la scrittura è condotta in forma di diario impedisce in realtà di percepire una continuità perché non c'è mai perché Veronica Giuliani non è mai invitata a scrivere in maniera da ripensare a una continuità cosa che invece fa Maria Maddalena Martinengo anche lei cappuccina grosso modo cortanea di Brescia e appartenente alla famiglia di Martinengo grande cultura vedete già dalla prima pagina della sua vita che la scrittura della Martinengo è sorvegliatissima ordinatissima rivela non una una semicolta ma una donna molto colta capace di impaginare perfettamente non si vede qui ma allora c'è una data nel anno del signore 1725 della mia età 37 in alto vedete per obbedire scrivo per obbedire scrivo la prima frase la prima parola per obbedire scrivo e cattivo il mio giudizio nonostante la repugnanza che mi vince la quale è tanto grande eccetera eccetera ma questa pagina finisce esattamente in basso con la fine del primo capitolo il primo capitolo della vita coincide esattamente con la pagina quindi un grande dominio della pagina scritta che coincide con un grande dominio della del racconto di sé siamo proprio agli antipoli sono coetane ma siamo agli antipodi di Veronica Giuliani che scriveva fra l'altro in pezzi di carta non rispettando i margini senza andare a capo con scrittura insomma siamo proprio agli antipodi Maria Maddalena Martinengo scrive non solo la vita ma scrive la vita a seguito della redazione di una serie di relazioni al padre spirituale dicevo all'inizio che le autobiografie spesso sono successive o coincidenti con le relazioni le relazioni sono dei testi molto più brevi che riguardano episodi della vita più limitati e qui avete la relazione prima al padre Antonio Salvini in cui parla del voto di virginità e siamo appunto ai 13 anni è interessante vedere come questo stesso episodio che nella relazione viene viene scritto così lo vedete prendere qualche fortezza nel mio interno feci voto di virginità ed ero in età di 13 anni ma non cedè il demonio vedete cioè i progressi della vita spirituale non sono mai disposti a scala non cedè il demonio anzi come rabbioso leone molto più si inferocì e mi condusse quasi all'ultimo tracollo cioè a commettere le notabili fedeità a Dio e come viene trascritta nella vita perché la vita dà modo all'autrice di riflettere di più sulla costruzione e sull'instituzione inserimento di ogni episodio nella costruzione biografica e quindi comincia la stessa maniera in queste età di 13 anni votai con licenza del padre confessore perché vedete l'autobiografia deve esporre tutti i termini della vita spirituale quindi non è una un'iniziativa privata personale ma licenza del padre confessore votai la mia virginità a Dio temporalità io desideravo di votarli la per sempre con tutta la pienezza del cuore ma l'obbedienza non volse ma solamente di solennità in solennità quindi il padre confessore le impone per obbedienza di fare dei voti temporanei come del resto prima di entrare in convento e di emettere i voti definitivi c'è una un voto temporaneo che viene emesso per dar modo all'anima di abituarsi alla vita claustrale uno dei punti più memorabili della sua autobiografia è il momento in cui nel capitolo quarto Maria Maddalena Martinengo al secolo Margherita parla fa il racconto della sua vocazione allora questo racconto è molto bello e c'è una visione perché prima voleva allora prima lei fa l'accademiante presso le Agostiniane e poi le Benedettine di Brescia cioè fa tutto le scuole il primo apprendistato religioso presso vari ordini poi le viene il desiderio di chiudersi fra le Teresine di Piacenza assieme a un'amica ma la la visione una visione che a un certo punto la coglie la spinge verso le Capuccine decisione contrastatissima dai dei genitori fra l'altro il rapporto fra lei e il padre è non uguale ma ricorda molto da vicino quello manzoniano tra Gertrude e il padre anche se suo padre Leopoldo Martinengo in realtà è un padre amoroso e pronto ad ascoltarla però è un racconto molto prolungato del rapporto fra lei e il padre rispetto a questa vocazione religiosa che si prolunga per molti capitoli quando la ragazza è bambina poi fanciulla e non ci si può esimere dal ripensare alla storia di Gertrude e questa visione è una visione abbastanza ricorrente in storie di conversioni cioè lei vede Santa Chiara vede Maria in alto e a destra e a sinistra Santa Chiara e Santa Teresa e le due sante si contendono l'anima di Margherita e Santa Chiara le porge il suo bisello cioè il suo abito grigio e e poi e invece dunque scusate Santa Teresa perché voleva entrare presso le Teresine mi porge il suo manto candido dicendomi che me ne vestissi e sarei stata sua diletta figlia ma in quel momento interviene Santa Chiara perché Chiara in realtà è all'origine delle Clarisse ma anche delle Capuccine perché le Capuccine non hanno una fondatrice diversa da Santa Chiara e a quel momento arriva Santa Chiara che invece del manto candido ed elegante delle Teresine le porge il suo aspro bisello cioè il suo la sua veste bigia tipica dei Francescanni che era fatta anche originariamente proprio di tela di sacco era molto ruvida e metaforizzava le asprezze della vita Capuccina e dice a Santa Teresa cedi sorella perché questa è già destinata a Beterno dal Supremo Signore per mia cara e avantissima figlia cioè nel sogno o visione Santa Chiara annuncia che il suo destino sarà fra le Capuccine e poi c'è una specie di litigio fra le due sante ma quando lei si risveglia avete le righe che vedete lì conosciute da questa visione la volontà di Dio me li offrì prontissima ad eseguire allora la visione la visione dà la consacrazione del suo destino non Teresine ma Clarisse o Capuccine quindi vedete temporalità immediata io mi offrì prontissima ad eseguirla che cosa fa? scrissi subito al Signor Padre che si degnasse portarsi in città perché lui era in viaggio poiché aveva una cosa di somma importanza da dirgli egli era longi da Brescia più di 40 miglia e tra la dare della lettera e il venire del Signor Padre ci volsero quattro giorni quindi lui obbedisce immediatamente lui lei gli scrive gli dice vieni che devo parlarti e ci vogliono quattro giorni la quante della mia coscienza la pace del cuore la chiarezza dei lumi la strazione della mente mi durò solo tre giorni nei quali stetti in una continua reazione con poco mangiare poco dormire eccetera e poi io la trovo una cosa che mi ha sempre veramente mi è veramente colpita e non smetto di pensarci visione delle sante che si contendono l'anima della fanciulla nelle biografie classiche una visione di un santo che dice tu sarai mio decide della tua vita basta su che cos'altro di cos'altro vogliamo ragionare dopo addirittura Santa Chiara si impone su Santa Teresa e dille zitta tu che qui volsi così dove si può e ciò che si vuole è già stato deciso altrimenti lei sarà mia cosa vuoi dire d'altro infatti lei subito chiama il padre dice basta ho deciso le dure tre giorni dopodiché ritorna negli stessi scrupoli di coscienza di prima e quando il padre arriva a sentire che cos'ha lei si deve e lo racconta è bellissimo si deve arrampicare sugli specchi perché si ricorda di aver avuto sta benissimo di aver avuto questa visione si ricorda di aver deciso che la sua vita sarebbe stata tra le cappuccine ma l'impressione è svanita è durata tre giorni e adesso lei si trova con una decisione presa e cuore che non la segue più e questa idea di una temporalità presso una ragazzina che l'epoca aveva poco era poco dopo il voto di virginità quindi avrà avuto quattordici anni cioè di una decisione di conversione che dura poco è una delle pochissime che ha il coraggio di dire queste cose cioè di seguire così da vicino la storia della propria vita da ammettere che certe illuminazioni hanno poca durata scusate sono molto in ritardo e finisco con l'ultimo esempio allora l'ultimo esempio è una donna che a me è molto cara e qualche anno fa sono andata a Miggiano in provincia di Lecce a studiare la la casa e la biblioteca di questa donna consiglia Rao di cui vedete qui gli estremi biografici morta nel 1902 e della quale il fratello Giovanni Battista Rao scrive un'opera che si chiama Diario doloroso che vedete no che non vedete vi faccio vedere qui una vittima nascosta Diario doloroso di consiglia Rao è un personaggio straordinario una delle mistiche moderne di cui tantissimi paesini italiani hanno recano tracce e memorie io ho intervistato la figlia di una donna che l'aveva conosciuta in che era stata sua compagna insomma anche se era un poco più giovane di lei che se la ricordava bene loro in paese si tramandano proprio racconti su di lei lei intercedeva vedeva le anime del purgatorio intercedeva per per abbreviare le pene delle anime purganti ma soprattutto per tutta la vita era stata oggi era stata fatta oggetto di vessazioni demoniache terrificanti con dislocazioni crocefissioni perdite ematiche importantissime anoressia la santa anoressia prolungata per mesi e tutte queste vicende che lei teneva scrupolosamente nascoste erano state a un certo punto scoperte e raccontate dal fratello in questo diario è un diario ehm questa non è un diario autobiografico ma è scritto dal fratello farmacista la cosa fondamentale è la farmacia cioè l'ambiente della famiglia qui vedete nella loro casa c'è ancora eh una stanza loro sono ancora farmacisti nei redi attuali del della famiglia sono ancora farmacisti il nonno aveva studiato l'università di Napoli era un famoso chimico autore anche di un manuale eh su cui tutti avevano avevano studiato alla fine dell'ottocento nella seconda metà dell'ottocento ci sono ancora vedete gli arredi della farmacia ottocentesca eh quello che vedete in fondo è un premio eh per un preparato che era stato presentato all'esposizione internazionale proprio nel 1902 dal fratello di Consiglia quindi famiglia di scienziati sostanzialmente cioè di personaggi votati alla scienza la loro biblioteca è impressionante perché c'è tutta una parte religiosa ma poi c'è tutta la parte scientifica e che vivevano malissimo malissimo la presenza di questa figlia che parlava con le anime nel purgatorio e di cui si vergognavano profondamente che perquisivano ogni volta che usciva di casa perché lei nelle tasche della veste nascondeva il pane da dare ai poveri cioè lei svuotava casa per dare tutto quello che aveva ai poveri quindi prima di farle varcare la soglia di casa dovevano perquisirla e svuotare le tasche lei comunque trova il modo di donare tutto quello che poteva e allora il fratello e allora qui vedete a sinistra c'è un suo ritratto quella di dentro è una rarissima rubata fotografia che la rappresenta quindi come era veramente però di spalle perché ovviamente aveva voluto farsi ritrarre e probabilmente il ritratto era stato fatto post morte in realtà perché non voleva non voleva cedere alla tentazione insomma a questa la moda di avere il ritratto di famiglia e il fratello scrive questo diario doloroso che pubblica nel 1904 cioè dopo la sua morte ma che in realtà scrive giorno per giorno dal 1884 quando il confessore il parroco di questo paese Miggiano gli rivela quando lui continua a lamentarsi perché la sorella è strana non mangia non si capisce cosa faccia e poi sembra che stia sempre male il parroco a un certo punto stufo di queste lamentele che durano ormai da anni lo prende da canto e dice ma tu non hai proprio capito niente e gli rivela che lei da anni è soggetta a vessazioni diaboliche atroci con racconti raccapriccianti che lui a un certo punto comincia a registrare li registra e li confronta con la moderna letteratura sull'isteria di marca francese soprattutto perché negli anni 60-70 dell'ottocento in Francia nascono le grandi indagini psicoanalitiche su fenomeni di isterismo di massa soprattutto ma su fenomeni di isteria femminile o affettata santità che sono fondamentali perché pongono dei discrimini fra quello che noi chiamiamo psicosomatico e quello che non è spiegabile con lo psicosomatico e Giovan Battista Rao il fratello di consiglia conosce benissimo tutta questa letteratura la cita e sulla base di questa letteratura medica internazionale confronta confronta quello che vede nella sorella e per arrivare ad escludendum alla conseguenza alla diciamo alla all'ipotesi che i fenomeni da lei vissuti non siano psichici o psicosomatici ma che si tratti veramente di una messa alla prova di Dio cioè di come Dio mette alla prova le anime di chi gli è caro per per effettuare per perché è il tipico il crogiolo dei santi quello che vive anche padre Pio quello che vivono tanti santi dall'antichità alla modernità che si chiama notte oscura si chiama privazione della luce si chiama è uno stato privativo che per consiglia prosegue quasi fino alla morte e che consente nella messa alla prova della fede in vista di una in vista di qualche cosa e perché lei diventa fondatrice di un piccolo ordine femminile locale quindi qui il diario ecco e finisco con questo è un diario particolarmente da annoverare fra le scritture non autobiografiche ma biografiche in cui la temporalità è quella non di chi vive l'esperienza e che quindi è in grado di misurare su di sé il percorso ma di chi e quindi la cosa colpisce in maniera diversa e secondo me molto profonda è scritto da parte di chi dall'esterno riesce a vedere soltanto questi fenomeni di messa alla prova ma non può sperimentare l'effetto che questi fenomeni hanno sull'arma l'effetto di santificazione e quindi vede soltanto vede soltanto la messa alla prova e per lui è una fonte di disperazione continua perché giorno per giorno registra una nuova crocifissione nuova perdita di sangue nuovi nuovi lividi lei andava in giro con lividi da tutte le parti perché di notte i diavoli la sbattevano sulle sulle pareti della casa senza poter ravvisare un percorso proprio quel percorso che la teologia mistica presupponeva come obbligatorio e che invece le racconti autobiografici spesso non riportano ecco grazie finisco grazie 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 a tutti.